Ciao a tutti, qualcuno mi conosce e forse qualcuno no, mi chiamo Anita e sono una danza movimento terapeuta e sono specializzata in tecniche psicocorporea e mediazione espressiva, cioè faccio laboratori di movimento e di espressività corporea con i bambini. Quindi alcuni colleghi, alcuni amici e persone con le quali ho lavorato mi hanno chiesto se in questi giorni di quarantena durante i quali siamo costretti a rimanere a casa se potevo mandare delle idee e dei giochi di movimento ed espressivi per far giocare i bambini a casa, quindi per aiutare i genitori a trascorrere il tempo con i propri figli. Quindi ringrazio chi mi ha fatto questa proposta e quindi ho pensato di mandarvi, ovviamente tramite social, quindi tramite facebook, tramite whatsapp, dei video con alcune proposte di giochi, dei giochi di movimento, dei giochi che possono stimolare la creatività, l'immaginazione, l'espressività corporea dei vostri bimbi. Sono giochi molto semplici che potete fare a casa con materiali, con oggetti che avete a casa, con canzoni che avete a casa, per la difficoltà che abbiamo di uscire e di poter trovare qualcosa con cui possiamo giocare con i nostri bimbi. Io ho un figlio per cui vi manderò dei giochi che io faccio con lui e spero che vi possano essere d'aiuto per farvi trascorrere queste giornate insieme ai vostri bimbi. Per adesso vi saluto e spero che questi video possano aiutarvi ad essere graditi. Ciao!